E' stato il giorno dell'ex direttore generale della Popolare delle Truria Luca Bronchi e dell'ex presidente Giuseppe Fornasari. Una nuova udienza davanti al GUP del Tribunale di Arezzo Anna Maria Loprete del procedimento per ostacolo alla vigilanza nell'ambito delle inchieste sulla vecchia Banca Etruria che vede imputati Giuseppe Fornasari, Luca Bronchi e il dirigente David Canestri. L'udienza, iniziata intorno alle 10 di mercoledì mattina, è terminata alle 14, a presa avvio con il controinterrogatorio dell'ex direttore generale. Contresame, domande da parte della procura, ma l'abbiamo bloccata sul nascere perché erano domande malposte. Tutti toccati? Quelli del capo di imputazione. Quindi abbiamo riparlato del Palazzo La Fonte, dell'operazione dello spin-off immobiliare, del flusso informativo verso Banca d'Italia e appena appena mi sembra un accenno anche sui crediti deteriorati, sulla questione dei crediti. E' stato poi il turno dell'ex presidente Giuseppe Fornasari che ha rilasciato solamente una dichiarazione spontanea. Il mio sentimento ha risposto, ha chiarito tutta la vicenda, ha ricostruito i vari passaggi nel corso dei quali lui è stato nominato presidente, le difficoltà in cui si trovava la banca al momento in cui appunto lui ha assunto la presidenza, purtroppo le difficoltà economiche le conosciamo tutte, erano tali che hanno creato quello che purtroppo si è verificato. La partita è una partita tecnica, una partita tecnica che riguarderà appunto gli aspetti tecnici delle contestazioni, una partita giuridica che affronterà il tema generale dell'ostacolo alla vicinanza che poi è il reato che ci viene contestato. Il processo con Rita abbreviato è stato quindi aggiornato al 19, al 21 e al 26 ottobre. L'ultima udienza fissata dovrebbe essere quella della sentenza.